Noi avevamo una nave italiana commerciale in alto mare con militari a bordo, questa nave è uscita dalle acque internazionali e si è consegnata in porto agli indiani, poi due militari italiani in una nave comandata da un civile sono scesi dalla nave e si sono consegnati o sono stati consegnati. Credo che su questo il governo debba dire al Parlamento che cosa è accaduto e non lo debba dire in una seduta pubblica, ma lo debba dire in una seduta che mantenga la riservatezza di quest'operazione, perché? Perché chi conosce gli indiani sa che gli indiani colgono ogni frase sui nostri giornali, sulle nostre televisioni e lo possono cogliere a danno dei nostri marocchi che sono adesso in carcere, quindi ora la seconda fase è la fase della prudenza e della cautela, quindi io credo che dovremmo essere informati, ma se lo facciamo in modo eclatante, noi abbiamo due persone, non li voglio definire ostaggi, ma insomma nelle mani di un'autorità giudiziaria che noi riteniamo non sia competente.